Musica Ci siamo fermati per chiedere delle informazioni per raggiungere l'area del deserto colorato di Ulaun su Vraga e l'ospitalità dei mongoli, delle donne mongole è stata più forte dell'attrazione del deserto ci hanno offerto delle specialità, del formaggio secco, delle frittelle di panni e lievitato con una bevanda fermentata che si chiama Rack e una specie di bevanda alcolica sempre ricavata con il latte fermentato Musica Musica Delicate tonalità di gialle con pennellate di rosso, questo è Hulansuvraga, Hulang In lingua mongola vuol dire rosso In lingua mongola vuol direnэ si è rile acqua, Noi, nós siamo rile. Grazie a tutti.